E' partito ieri con il piede sbagliato e il maxiconcorso indetto dalla regione Campania. Quattro ore di ritardo per un guasso alle fotocopiatrici, malori e proteste. Una giornata campale per i candidati che si erano recati alla mostra ad oltremare di fuorigrotta per la prima giornata di prove preselettive del concorso RIPAM che porterà all'assunzione del primo blocco di 2.175 persone su 10.000 a tempo indeterminato negli enti locali che hanno aderito. I numeri del concorsone sono da record, 1.200.000 domande, 303.000 concorrenti candidati per più classi, circa 20 giorni di selezione con due turni al giorno. E ieri mattina la partenza flop, la prova ha preso il via con ore di ritardo. Le migliaia di candidati chiamati a sostenere il test hanno atteso in fila all'esterno dei padiglioni per diverse ore prima di poter prendere posto e sistemarsi. Tanti, vinti dalla stanchezza e dallo sconforto, sono andati via. Poi, chiusi nella mostra d'oltremare, oltre 10.000 persone sigillate in otto padiglioni sono rimasti in attesa di fotocopiatrici che non ne hanno voluto sapere di funzionare. Oltre alle proteste, non sono mancati i malori dovuti anche al caldo, in quanto era totalmente assente l'aria condizionata. Per la situazione molto tesa è dovuta intervenire la polizia a riportare la calma. E non è andata meglio ai candidati del turno pomeridiano, che hanno dovuto attendere ben tre ore prima di iniziare la prova. Tra chi ha rinunciato ieri e chi rinuncerà, date le premesse, è stata fatta una rapida scrematura pre-prova preselettiva. Al di là dell'ironia, non mancheranno i ricorsi. Il contrattempo di ieri rischia di inficiare l'intera procedura, visto che in molti hanno minacciato di adire le vie legali. Chi infatti ha fatto la prova dopo ore di interminabile attesa al caldo ha avuto condizioni psicofisiche peggiori rispetto ai prossimi concorrenti. A parlare di ricorso e anche Valeria Cerambino, capogruppo alla regione del Movimento 5 Stelle, il maxiconcorso di De Luca, ironizzato, si è già tramutato in maxiricorso. E poi le macchine sono state provate prima di essere impiegate, si domanda invece il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli.